In momenti come questi è giusto piangere, è giusto essere in lutto. Abbiamo bisogno di questo momento per esternare il dolore che sentiamo. Io di lui mi porto, come ho detto, un'anima buona, pura e quando giocavamo insieme sia all'asilo che all'elementari, quel sorriso timido, introverso, mi porto dietro la sua gentilezza e questo, non so aggiungere altro veramente, se non una splendida persona, uno splendido ragazzo, buono, non faceva male a una mosca veramente, un ottimo amico, compagno di classe, dell'asilo, delle elementari, infatti abbiamo stampato delle foto che volevamo dare alla sorella. Io ho già dato questo visino qui, era così, un'anima buona, un po' timidino, introverso. Quando ci scambiavamo i Pokémon da bambini, era bravissimo, era proprio bravo, brava persona, con tutti, mai, per quello che mi ricordo da bambino, ragazzino, mai una parola fuori posto, mai un comportamento sbagliato, era manuale, era tranquillo, bravissimo, brava persona, brava famiglia, niente altro da dire se non bravo. Speriamo che venga fatta giustizia una volta tanto in Italia e per il resto purtroppo siamo qui oggi, ma è andato.